Domina il panorama con superba sicurezza da oltre 700 anni. Ora per il castello superiore di Marostica è venuto il momento di riconquistare, oltre alla sua assoluta bellezza, anche tutta la dignità di ospitare visitatori con l'opportunità di godere uno dei panorami ai più ampio respiro sulla pianura Veneta, cosa preclusa in passato perché il meraviglioso Belvedere era un parcheggio per il ristorante. Se noi vediamo qui fuori, questo è uno dei più bei panorami del Veneto e automaticamente è anche uno dei più bei panorami del Veneto. Sì, noi lo riteniamo uno dei punti di forza del castello superiore e anzi, proprio per questo nel progetto iniziale di 670 mila euro che vedono solo il restauro del locale adibito al ristorante all'interno delle mule del castello superiore verranno creati delle balconate e dei Belvederi, proprio come erano in origine nella struttura, cosa di cui la sommittenza è stata molto contenta. L'investimento è di 1.370.000 euro e vedrà il completo rifacimento degli spazi per la ristorazione e la trasformazione dei parcheggi, uniti da un averiglistico ascensore panoramico per coprire 20 metri di dislivello. Una volta saliti, Marostica avrà un nuovo polo turistico e il panorama avrà la cornice che merita e non le lamiere delle automobili parcheggiate. Importante che il bando assegni la gestione a chi valorizzerà il territorio. È una sfida, sappiamo che dobbiamo lavorare molto su quello che sarà il bando di affidamento della gestione però sappiamo anche che stiamo offrendo uno dei posti più belli di Marostica un panorama che dice tutto, basta guardarlo, un panorama che ti lascia senza fiato. Stiamo offrendo molto dal punto di vista turistico quindi puntiamo in alto anche su quella che poi sarà la gestione.